Prende lo strumento dalla maniglia, questo è uno dei fattori principali per cui gli strumenti cadono a terra e di solito sono delle cadute proprio belle belle belle. Quando manovrate lo strumento all'inizio fatelo sempre su un divano, su un letto, perché se vi scappa qualche pezzo dello strumento, almeno cadendo non va direttamente sul pavimento. Un'altra cosa importantissima, controllate sempre benissimo che la custodia sia chiusa, perché molto spesso, soprattutto nelle custodie con le zip, la custodia rimane aperta, ci si dimentica di chiudere la zip, si prende lo strumento dalla maniglia, si apre la custodia e lo strumento cade a terra.